Ciao a tutti e bentornati. Allora, sicuramente non tutti voi sapete che nella notte appena trascorsa qui su YouTube ci sono stati i fuochi d'artificio. Siete curiosi? Bene, fermi lì che vi racconto tutto. Partiamo dalla live di Chiara, quella che porta per titolo, sapevo già il vostro copione, non sono stupida. La live parte col raccontare di Senz'Anima che, senza motivo, ha interrotto la loro pseudo-amicizia e li ha pure bloccati. Vedendosi bloccata, Chiara ha provato a contattare Dennis, ma lui si è reso irreperibile e da qui in poi si alza lo squallido sipario. Vi consiglio di procurarvi dei popcorn perché lei ha registrato tutte le loro conversazioni e afferma di sapere delle cose molto pucciose e decide di darcene subito qualche piccolo assaggio tipo che quando Dennis è andato a fare quel viaggio tutti insieme a Disneyland Paris, praticamente ha filmato di nascosto Faith, suo marito, suo figlio e Marco. E questo video è finito dritto dritto nelle mani di Chiara e viene chiesto a Faith di sbloccarla su WhatsApp così le manda il video come prova. La notizia vi ha scioccato? Beh, fate male perché questo è solamente l'inizio. Pare che Dennis nel privato parlasse male un po' di tutti e rivelasse ogni cosa che gli veniva confidata. Tipo che Senz'Anima si fosse creata un fake per deridere Faith. Il fake si chiamava Faith arancino con i piedi. Bene, la live continua con Chiara che si descrive come una donna furba, intelligente, che aveva già previsto tutto. Vabbè, vi risparmio queste solite cazzate e passiamo subito a Faith che, ascoltata la live di Chiara, decide di aprirne una tutta sua e di rispondere. La sua live inizia col commentare la storia del fake di Senz'Anima dove la prendeva in giro definendola un arancino con i piedi. Dopodiché si passa a Dennis che, a detta dei Faith, ha sul telefono foto e video del figlio di Faith che, ricordo, ha soli quattro anni. Nonché la foto photoshoppata da Werewolf dove praticamente Faith appare nuda e con la quale pare ci si trastulli non poco. L'interesse di Dennis pare non si limitasse solamente alle foto, ma pare che ci provasse palesemente con Faith. Tanto da arrivare a farle delle vere e proprie scenate di gelosia se qualche ragazzo o qualche uomo per strada praticamente le chiedeva il numero di telefono. Ora, dato che stanno tutti scoprendo le proprie carte, lo fa pure Faith, annunciando una live dove mostrerà tutti i fake che si creava Dennis e le mostruosità che scriveva con quei fake. Poi passa a raccontare di quando erano in albergo, ognuno nella sua stanza e un mattino si è svegliata con Dennis che, a letto con lei, la abbracciava. E si è accorta di questa presenza nel suo letto, cioè Dennis che la abbracciava solo quando ha sentito urlare Marco che rimproverava Dennis per questa cosa. Bene, continuando sul viale delle rivelazioni, si scopre che Dennis ha un familiare che lavora al comune e tramite questo parente riesce ad ottenere i dati di chiunque lui voglia. Nel frattempo che Faith racconta tutte queste belle cose, fa la sua comparsa in chat della sua live Chiara che ribadisce di aver salvato tutte le informazioni passate da Dennis. Vi sembra abbastanza surreale la cosa? Beh, perché non avete ancora sentito il resto? Bene, adesso sentite un po' qua. Allora, Dennis confidava a Marco che il motivo che aveva mosso il suo aiuto nei confronti di Francesca era il poter farseli entrambi, e cioè mamma e figlio. E anzi, era arrivato pure a preoccuparsi di che posizione assumere con Francesca per compiere l'atto. Ora, dato che Chiara è lì presente in chat, Faith le riporta un episodio raccontato da Dennis e su chi? Su Chiara, no? E cioè che una volta l'ha vista uscire dalla doccia coperta da un telo, ma con ben visibile e come dirla in maniera pulita, con la polpettina al vento. E questa polpettina si presentava abbastanza enorme, ecco. Poi ha descritto anche l'apparato genitale di Davide, perché l'ha pizzicato in un momento che si stava cambiando e praticamente era senza le mutande e l'ha descritto come uno che non gode di grandi dimensioni, ecco. Vogliamo restare nel discorso clarinetto? Ok, restiamoci, perché a proposito di clarinetto, Dennis ha raccontato anche che Marco ha provato più volte a molestarlo. E in che modo? Beh, mettendogli le mani nelle mutande. Non pensavo di dirlo, ma qui più si va avanti e più fa schifo la cosa. Nel frattempo, che venivano esposti tutti questi bei racconti, c'era Senz'Anima che inviava messaggi privati a Faith, che ad un certo punto, ascoltando il consiglio della sua chat, cosa fa? Si mette un attimo in pausa e va ad ascoltare questi messaggi. Poco dopo, ritorna dicendo che Francesca si è dichiarata estranea a quel fake dell'arancino coi piedi di Faith e le fa le sue scuse. Bene, tutto questo succedeva ieri. Stamattina invece Faith ha aperto una live per raccontare alla sua utenza che Dennis, in privato, andava in giro a dire che suo figlio è malato. E raccontando questa faccenda ha ceduto più volte alla commozione, sebbene poi questa cosa della malattia del figlio fosse già circolata poco tempo fa, dove nel corso di una sua live degli utenti la informavano che Eva aveva detto che il figlio di Faith fosse affetto da autismo. In quell'occasione Faith accolse più di buon grado l'affermazione, tanto da definire il tutto non offensivo perché comunque suo figlio non era malato. Quindi una breve live quella di Faith seguita subito a ruota da una live di Chiara che, in vena di confessioni, racconta di essersi ravvicinata a Dennis per estrapolargli informazioni. Ora, di che tipo lo sa solo lei? E giusto perché lo sappiate pure voi, la faccenda del clarinetto torna ad essere una molestia e non più una burla. Per l'occasione viene rispolverato anche l'augurio di restare sotto i ferri per la povera signora Luciana. Il tutto non può finire qui. Lei ora vuole allungare il brodo e in che modo? Chiedendo gli screen dei fake che si creava Dennis e per ogni fake ci saranno trilogie di live dove lei praticamente sente il bisogno di esporre tutte le sue emozioni, sentimenti, impressioni e perché no, anche sogni. Dopotutto YouTube d'estate e paga un pochino meno quindi come si sol dire aiutati che Dio ti aiuta. In pratica riassumendo pure perché dopo vorrei andare a vedere qualche episodio di Derrick, quel figone di Derrick. Dicevamo Dennis ha mollato Chiara per andare da Faith la quale con le info che le passava Dennis ha fatto delle live spottanation da urlo. Poi Dennis ha mollato Faith ed è andato da senza anima con leccatine e ciucciamenti annessi ed ha iniziato a passare le info di Faith e Marco a Chiara e a senza anima. Poi Faith ha raccontato tutto ciò che Dennis faceva nel corso della loro amicizia, stranezze e ambiguità. Prima tollerate ma ora improponibili. Alla fine Dennis si ha divertito con tutti loro, ha carpito e diffuso segreti e informazioni personali e alla fine li ha lasciati a fare lo show chiudendo il suo canale. Allora in tutto ciò sicuramente Dennis non ci ha fatto una bella figura però anche gli altri diciamo che non sono stati da meno perché con tutta la buona volontà possibile io in questa storia Santi e vittime non ce le vedo. Ah dimenticavo di dire che nel corso della live di ieri Faith ha lanciato un piccolo spoiler riguardante la dama. Allora non ha detto tantissimo però è un qualcosa che riguarda i suoi animali ed ha detto che sta aspettando delle conferme da parte di una persona che è in contatto con la dama e sa un bel po' di cose sulla dama quindi non appena questa persona le fornirà le conferme di ciò che già le ha rivelato praticamente lei farà questa live e la dama dovrà solo andare a nascondersi. Quindi restiamo in trepidante attesa. Bene questo era tutto ciò che dovevo e volevo raccontarvi quindi non mi resta che augurarvi buona continuazione di serata ed invitarvi a seguire quello che sarà il mio prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossi e ciaone Grazie a tutti.